Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un interessante romanzo storico dal titolo Il Filo di Luce, Ducato di Milano 1447, l'arte della seta farà di lei una donna libera. L'autrice è Valeria Montaldi, l'editore è Burrizzoli, uscito da pochissimo. 416 pagine per solo 16 euro, quindi adesso ascolterete cosa ci racconta Valeria e poi dovete correre in libreria perché merita assolutamente la lettura piuttosto che la visione di una videopresentazione che peraltro è un piacere fare. Quindi io come mia abitudine lascio subito la parola a Valeria che ci parla di questo filo di luce. A te Valeria. Grazie, grazie innanzitutto per avermi invitato. So che siete molto bravi, che fate un monottimo lavoro sul romanzo storico e quindi sono molto contenta di essere qui con voi. Allora, non voglio fare spoiler, cioè non voglio raccontarvi la trama del romanzo, magari per qualche piccolo tratto varrono di più, perché se no vi tolgo sulla curiosità e non va bene. Come diceva Maurizio, questo romanzo è ambientato dalla seconda, più o meno, metà del Quattrocento, fino a diciamo dal Quattrocento quaranta a Quattrocento stanza. Si parla di Milano, della Milano sportesca e di alcune tematiche fondamentali che sono uno la produzione della seta a Milano, che è una cosa abbastanza strana che non molti conoscono, nemmeno io conoscevo prima di cominciare a studiarne. Poi quello che è successo in quegli anni a Milano durante appunto il Ducato sportesco, che sono stati anni molto complessi, molto difficili, molto tormentati dal punto di vista politico e sociale. Poi anche, e non ultima, anzi prima, la storia di una donna, la storia di una donna che è un personaggio di invenzione, che però avrebbe potuto essere chiunque, qualunque donna come noi oggi, che ha avuto una storia e una vita tormentata, da cui però è riuscita a risollevarsi. Allora, come dire, il modo per cui sono riuscita a trovare le tematiche giuste su questo romanzo è stato di investigare appunto la storia di Milano da quegli anni, scoprendo appunto, come dicevo prima, cose per me inaspettate. Cominciamo dalla produzione della seta. La produzione della seta, che è stata introdotta in Europa nel 550 d.C., la leggenda narra che si erano stati dei monaci provenienti dalla Cina, dalle zone limitrofe, a portare dentro due bastoni le uova di bombice, cioè di dibacco, e poi le abbiano portate in Sicilia, dove sono state utilizzate per, sono state fatte riprodurre, e per la produzione della seta. Allora, questi vermiciatri abbastanza ributtanti, però, sono importantissimi perché loro mangiano, si nutrono del gel, delle foglie di gel. Le mangiano, crescono, fino a un certo punto, diventano grossi, diventano, come dire, crisaledi che poi gli allevatori di seta, purtroppo per loro poverini i vermetti, prendono, li buttano nei calderoni di acqua bollente, quindi li fanno morire, e da quello che rimane, di questi crisaledi, fanno tirar fuori, una volta era così, adesso forse è diverso, ma comunque diciamo che andava così, facevano tirare fuori il capofilo, cioè la bava che questi vermi facevano, e da questa bava cercavava la seta. Allora, un procedimento molto complesso, molto lungo, abbastanza costoso dal punto di vista della mano d'opera, e quindi ovviamente costoso anche dal punto di vista poi della vendita di questo prodotto finito. C'è da dire che all'inizio la produzione di seta era a pannaggio appunto della Sicilia, di Lucca, di Firenze, anche di Venezia, però appunto all'esternità del Quattrocento Filippo Mario Visconti a Milano ha avuto la brillante idea, veramente brillante, di introdurre questa impresa nel milanese, quindi ha favorito l'entrata a Milano di setaioli, che prima non c'erano, si sono moltiplicate le zone, limitrata a Milano dove sono state messe in piedi appunto delle coltivazioni di gelso che chiedessero nutrimento ai bacchi, e da qui è cominciata la produzione di questo filato. Questo filato è importante, è stato molto importante perché in quegli anni, come è ovvio, tutta l'altra ricercastia sia italiana che anche estera, ma non solo, anche le altre gerarchie ecclesiastiche richiedevano per le loro, per gli abiti, per i pagliotti d'altare eccetera, richiedevano questi filati molto preziosi, molto importanti e molto costosi. Quindi i setaioli hanno avuto buon gioco, hanno messo i loro capitali chiaramente rischiando del loro, ma hanno fatto bene perché dal loro punto di vista, comunque dal punto di vista generale di quello che succedeva a quei tempi dal punto di vista economico, è stata una produzione importantissima. anche a Milano, come dicono, cosa che mi ha, ripeto, stupito perché pensavo io stessa, nonostante gli studi spazi prima, che fossero soltanto produzioni relegate in altre zone italiane. Ecco, detto questo, è detto che per esempio nel romanzo si parla di un setificio, cioè di una manifattura di seta, locata a, diciamo, come se fosse oggi la via Sant'Andrea. Allora era la posterla di via Sant'Andrea, cioè praticamente alla fine dell'attuale via, al confine, insomma, di fianco a Naviglio di San Daniano che è adesso. Allora, non è un caso, a me comunque ha stupito questa cosa, però non è un caso che questa produzione di seta, questo grosso e importante il certificio che c'è stato davvero, cioè non lo sono messo io, eh, dei fonti storici e studiosi che ho interpellato me lo hanno confermato, che sia nato e cresciuto proprio nella zona che adesso, Monte Napoleone, via Sant'Andrea, via Sant'Andrea, è ancora, diciamo, la culla della moda, chiamiamola così. Allora, insieme con questo discorso sulla seta, io mi sono chiesto, ma chi era, a parte i virgoletti, i padroni, stessi edifici, chi era che lavorava davvero la seta, cioè che faceva uscire dalle manifatture questi manufatti preziosi e sempre grazie alla disponibilità e generosità di molti studiosi del medioevo e del rinascimento, ho imparato e ho capito e ho studiato. Erano le donne, mi sa come mai, tanto per cambiare, erano le donne, nel senso che la manodopera era praticamente tutta femminile. Allora, queste donne che cominciavano a fare dalla trattura, che è quello di cui parlavo prima, cioè di togliere il capofilo dal baco, dal che restava del baco, fino alla fine, cioè alla filatura, al torcitoio, facevano tutto loro, o lo facevano chiaramente dentro, all'interno delle manifatture. Poi alcune di loro stavano, vivevano, se il setaiolo aveva i locali giusti e poteva farlo, vivevano all'interno del settificio, in modo da, oltretutto per così, il setaiolo poteva controllarle, anche dal punto di vista mica ruberie e cose varie, oppure altre vivevano nel loro caso, nel loro abitazione e poi andavano tutti i giorni a lavorare nella massiatura. Cominciavano tutte come apprendiste, poi le più brave, magari venivano assunte e restavano in pianza stabile a lavorare. Allora, poi dopo parleremo anche di un'altra particolare di questa produzione, che è quello del battidoro, che è importantissimo, ma ne parliamo un attimo dopo. Continuiamo con le donne, che mi interessano molto di più per il momento. La protagonista di questo romanzo, che si chiama Margherita, non a caso, perché la Margherita, il fiore della Margherita, è un fiore che sembra debole, che perde i petali, invece no. È un fiore resistentissimo, che sopporta l'acqua, nel senso della pioggia, la tempesta, il vento, si richiude su se stessa e poi si riapre e torna come era prima. Ecco, Margherita, questa donna, questa ragazza, è così. Nasce in circostanze molto sfortunate da una carcerata, quindi sarebbe destinata alla morte, se una donna molto generosa e molto disponibile non la aiutasse a risollevarsi da questa situazione. Dopo una serie di situazioni e di vicende che la vedranno protagonista, riuscirà ad entrare a un settificio, che è quello di questo setaiolo di cui parlavo prima, molto importante, di cui io ho inventato il nome, ma c'è stato davvero, c'è stato proprio lui, quello della posterra di Sant'Andrea, e lì comincerà a lavorare. Quello che non ho ancora detto è che questa donna, questa ragazza, questa bambina, che è stata data, appena nata, è stata data in affida a una balia, a una donna, quando è cresciuta, aveva dieci, dodici anni, è stata avviata purtroppo alla prostituzione minorile. Questa è stata un'altra cosa che mi ha estremamente colpito nello studio della società e di quello che succedeva in quegli anni a Milano. Era molto diffusa, come è ovvio, la prostituzione, voglio dire, da sempre, eccetera, quella minorile ancora di più, e questa bambina, questa ragazza bambina, ha dovuto esercitare sul malgrado questo lavoro, chiamiamolo così, in una locanda, nei segreti di una locanda. Adesso vi faccio sorridere un attimo per, come dire, smorzare questa cosa bruttissima, per dirvi che a Milano esisteva un luogo chiamato Castelletto, che era praticamente il bordello ufficiale del comune di Milano. Adesso, perché vi faccio sorridere? Perché voi non lo sapete, e l'ho scoperto anch'io, ho sorridere amaro, ma comunque, questo Castelletto, sapete dove era posizionato? Era praticamente posizionato esattamente dove adesso, in piazza Beccaria, c'è la costruzione dei vigili. Mi sembra una bella Nemesis, insomma, ecco, comunque, sono bella, sono un'amara Nemesis, ma comunque, questa era una costruzione circondata da, importante circondata da mura, non si poteva entrare se c'erano dei guardiani. Le prostitute che lavoravano all'interno erano costrette a versare una parte dei loro guadagni o delle maîtresse che, appunto, lega al comune, per, questa è una cosa curiosa, per continuare la ristrutturazione delle mura di Milano. Quindi, voglio dire, lo sfruttamento della donna, insieme con lo sfruttamento anche dei loro miseri, credo, guadagni, perché Milano doveva farsi ricca. Comunque, vabbè, doveva farsi ricco, comunque doveva, insomma, diciamo che loro aiutavano anche il procedere della città. Allora, detto questo, questa ragazza, alla fine, riesce a tirarsene un pochino fuori e va a lavorare nel suo fisico di questo, se sai io. Nascerà tra mille complicazioni, tra, soprattutto, dovrà, questa donna dovrà difendersi da una serie di maldicenze, perché le altre lavoranti, lei è bella, è bravissima, tra l'altro, a fare il suo lavoro. Le altre lavoranti sono infidiosissime e cominceranno a spaggere veleno su di lei. Adesso, ripeto, non voglio andare avanti a raccontare trame. Diciamo soltanto che questa donna, nel corso della sua vita, qui parliamo dal 1435, quando nasce, fino al 1480, più o meno, quando, quindi una vita intera, il percorso di una vita intera, questa donna riuscirà a tirarsi fuori con mille difficoltà, come dicevo prima, da una situazione grandissima di degrado. Un'altra cosa importante in questa storia, una delle tante importanti, comunque forse una delle più importanti, è che a un certo punto della propria vita, dopo aver subito altre e tante difficoltà da superare, questa donna incontra Elisabetta Visconti. Allora, Elisabetta Visconti era la moglie di Cicco Simonetta, il cancelliere educale, uno dei personaggi più importanti in assoluto della Milano del tempo. Per una sorta di magia, o comunque per un interesse della Visconti, interesse, come dire, per la persona che ha di fronte, e poi a seguire anche per altre motivazioni, queste due donne, una più vecchia dell'altra, ma neanche moltissima, troveranno una consonanza tra di loro di intenti. E questa consonanza di intenti e anche questa consonanza di affetto alla fine, che diventerà affetto alla fine, porterà una cosa importantissima, cioè la costituzione di una società tutta al femminile per portare avanti il settificio di questa margherita, che nel frattempo il marito era morto, quindi è lei che ha dovuto portare avanti tutta la faccenda. Costituiscono una società, lei, la Visconti, un'altra persona, un'altra donna con notevoli possibilità economiche e Margherita, che ci mette, loro due ci mettono il capitale, le due donne, Margherita ci mette il lavoro, cioè che è capace di farlo, e questa cosa porterà avanti senza grandissimi problemi, nonostante la morte di poi di Cicco Simonetti a cui hanno tagliato la testa, tanto per cambiare, ma comunque quelli erano i tempi, e altre vicende di genere varia o politiche molto difficili da superare, portaranno avanti questa società. Ecco, questa è stata un'altra cosa, insieme con la storia della seta a Milano, che mi ha colpito, quando l'ho scoperta, mi sono stupita, perché dico, è possibile che nel 1470, 80, 60, ci fossero già delle, come dire, cooperative di sole donne, è possibile, c'erano, erano soprattutto manifatturiere, quindi appunto in questo caso la seta, ma c'erano anche i berrettaie, c'erano anche le esistere, le esistere matrici, c'erano insomma tante donne, soprattutto, che sapevano usare le mani per lavorare, per fare, che ci sono state, è una cosa che mi ha stupito moltissimo, e di cui ringrazio tantissimo gli studiosi, come per le altre informazioni, perché qui si tratta sempre di studiare, di approfondire, perché sennò si scrivono enormi sciocchezze, quando si parla del passato, per avere dato luce, dato forza a queste informazioni, perché sono importanti, perché io credo che, come ho sempre creduto, peraltro, uno, che le donne siano, non sono una femminista, ma mi sembra una cosa banale da dire, ma mi sembra vera, che le donne siano un forte traino della società, siano sempre state, o perché davano cura, e questo è sempre stata una delle loro caratteristiche, cura ai figli, ai mariti, ai genitori, cura fisica, cioè le medicine, e boriste che fossero, piuttosto che i medici, come ho già scritto in un altro dei miei romanzi, più precedenti, La Ribelle, c'erano le donne mediche, ma insomma, voglio dire, alla donna erano affidati molti compiti, che spesso gli uomini, come dire, impegnati in altre cose, non ritenevano meno importanti, e loro sono andati avanti, quindi voglio dire, anche questa cosa qui, questa scoperta delle cooperative femminili, mi ha molto pensivamente scupito, tanto più che oggi, come leggiamo da qualunque parte, sui magazine, sui giornali, eccetera, eccetera, si vede che molte donne ancora, si occupano appunto di portare avanti, delle situazioni di lavoro, dalle app, dalle inventrici di app, fino alle studiose, fino alle scienziate, molte cose che, per carità, fanno parte anche del maschile, però che fino a qualche anno fa, magari, erano un pochino meno frequenti, quindi insomma, questa cosa vi fa piacere, sono contenti. Detto questo, io ripeto, non volendo fare spoiler sul romanzo, posso soltanto dire che, l'ho scritto molto, sono voluti un paio d'anni, per scriverlo, come sempre, non scrivo un romanzo in sei mesi, sarò io, che l'età avanza, ma anche prima, quando ero più giovane, non ci mettevo sei mesi, ci mettevo un po' di più, perché tra la documentazione, che c'è da mettere in piedi prima, sarà il fatto di decidere bene qual è il noccio, diciamo, su un tornio, deve essere un vaso, questo vaso che gira, tu devi mettere dentro tutto quello che ci va, e allora, non è che si butta dentro così a caso, bisogna capire quello che ci va, quello che non ci va, quando, questa volta, appunto, ho azionato il tornio, e ho preso all'intorno, tutte le cose che c'erano, ho capito quali erano, come faccio quasi sempre, quali erano gli oggetti, da buttarci dentro, e questo è, quindi, insomma, niente, io spero, questo libro, a questo libro tengo molto, tengo molto per l'argomento, perché parla soprattutto, oltre a quello che ho già detto, parla soprattutto di Milano, di Milano con le Quattrocento, quindi di Milano con i navigli, di Milano con i suoi palazzi, con i suoi piccoli polverosi, con la cerchia di mura, con i interraggi, insomma, con tutto quello che c'era, con le lanterne apprese ai muri, con le botteghe, con i mercati, che erano tantissimi, con i personaggi storici, ho parlato prima di Simonezza, ho parlato di Francesco Assorza, ma parlo anche di Averlino, cioè di La Rete, che ha progettato e realizzato, sotto Francesco Assorza, l'ospedale Maggiore, l'ospedale Maggiore, che è l'attuale sede dell'Università Statale di Milano, cioè su via Francesco Assorza e Largo Ricchini, ha fatto un lavoro enorme, cioè ha costruito per la prima volta un luogo dove, su richiesta appunto di Francesco Assorza, fossero, come dire, raccolti, perché allora c'erano tanti ospedali, tanti ospizi, tanti luoghi di cura, però messi qua e là. Francesco Assorza ha voluto che ci fosse un unico posto dove la gente potesse essere ricoverata e curata e ha affidato questo compito tramite il Cicco Simonetta a questo architetto fiorentino che era la Verlino. La Verlino ha fatto un lavoro eccezionale, cioè a parte la costruzione che vediamo tuttora, che è notevole dal punto di vista architettonico, ma ha fatto soprattutto un lavoro dal punto di vista igienico che non c'era mai stato fino adesso, cioè approfittando della contiguità del naviglio, ha costruito quelle che si chiamavano allora i destri, cioè praticamente delle canalizzazioni sotterranee una sopra l'altra che portavano da una parte fuori dall'ospedale le acque lorde, cioè praticamente le latrine con quello che succedeva all'interno dell'ospedale e dall'altro sempre dal naviglio che portava dentro l'acqua pulita per poter provvedere appunto all'igiene dei malati. Quindi una cosa che fino ad allora credo anche in altri luoghi d'Europa non c'era mai stata. Quindi già questo basterebbe per capire l'importanza, intanto le vedute avanti anche di Francesco Sforza che non è che fosse un angelo, intendiamoci bene dal punto di vista né politico né... però insomma diciamo che ha avuto delle belle viste. Poi nello stesso tempo in quegli anni lì, a parte il castello di cui parlavo prima ancora di Averlino, è stata portata avanti molto la costruzione della cattedrale, cioè del Duomo. Quindi insomma anche dal punto di vista della città sono stati 40-50 anni di grandissimo fervore di tutti i tipi. Quindi le imprese, come dicevo prima, la seta e non soltanto, l'architettura e poi vabbè le efficienti politiche come sappiamo tutti quanti un po' di qua, un po' di là, un po' di assassini da una parte, un po' di tagliature, di teste cadute. Queste fanno parte... fanno... facevano... fanno, domanda, fanno ancora parte del nostro quotidiano. Insomma, comunque io ho cercato di mettere in uno stesso libro, in una stessa narrazione, un po' di queste cose. Spero che coloro che leggono riescano a calarsi dentro in questo periodo così lontano, ma per tanti versi ancora attuale. grazie, Valeria. Mi calerei nel libro comprandolo, perché sicuramente poi conoscendo anche i tuoi precedenti romanzi sono sempre molto curati e particolareggiati proprio nella ricostruzione storica, del periodo nel quale tu collochi le vicende di cui parli. Per cui questa è proprio la Milano della metà del Quattrocento, con tutte le sue particolarità e con tutte le sue caratteristiche. Quindi io a questo punto devo ricordare il titolo in modo che la gente possa comprarlo. Il titolo è semplice, è Il filo di luce. Bello il titolo perché si riferisce ovviamente al discorso che hai fatto sulla tessitura della seta. Ducato di Milano 1447, l'arte della seta farà di lei una donna libera. Pubblicato da Rizzoli da pochissimo, 416 pagine per soli 16 euro, quindi una spesa alla portata di quasi tutti. che vale e merita assolutamente l'acquisto. Quindi grazie ancora Valeria di aver accettato il nostro invito. Continuate a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie. Grazie a voi ancora, grazie di tutto. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.